ciao a tutti bentornati per chi mi segue già quest'oggi vi parlo della mia applicazione preferita per gestire i miei impegni quotidiani potranno essere la migliore per molti per alcuni che l'hanno già approvata gli è piaciuta quello vi posso dire che io la uso quotidianamente non mi ha mai deluso e continua a piacermi sotto ogni punto di vista sia dalla grafica che dal funzionamento ma bando alle ciance ve la faccio vedere da più vicino in modo da avere un quadro generale di come funziona questa applicazione che alia sarà spiegare tutte le impostazioni ci vorrebbe un video troppo lungo non mi voglio dilungare vi voglio solo dire che in due versioni una gratis con delle funzioni limitate ma che può benissimo essere utilizzata e quindi assolvere i propri doveri compiti come la vogliamo mettere e poi quella pro che costa se non sbaglio circa 5 euro io forse l'ho preso in offerta non mi ricordo più che ha sblocca quindi tutte le sue funzioni e che vi faccio vedere così da capire ancora meglio bene vi faccio vedere l'applicazione allora è questa qui digital non so se riuscita a vederla bene ma penso di sì allora questa è una delle sue schermate andando qui possiamo trovare le funzioni per andare alla data cercare un determinato appuntamento aggiornare se abbiamo appena inserito una nota in modo che si sincronizza automaticamente con altri dispositivi su cui è installato digital oppure comunque sulla nostra sul nostro sulla nostra email che utilizziamo per salvare gli appuntamenti le modifiche recenti e i contattaci poi abbiamo da quest'altra parte il più per aggiungere una nuova a un nuovo appuntamento o una nuova nota che sia e poi abbiamo questo tasto che ci permette di visualizzare o nascondere le attività del giorno poi abbiamo il tasto diciamo per il menu dove anzi non tasto al menu un altro tasto delle impostazioni dove poter decidere come visualizzare l'applicazione in questo caso possiamo avere la vista ad agenda possiamo avere la vista giornaliera la vista settimanale la vista agenda settimanale scusi scusate questa era la settimana poi la vista mese è quella che io preferisco poi abbiamo la vista mese più testo anno e via dicendo allora è possibile come potete vedere grazie a questa stellina possa qui di lato impostare una preferenza in modo tale quando l'applicazione sia aperta sia già impostata sulla vostra preferenza qui sotto possiamo vedere tutti i calendari che possiamo visualizzare io ne ho più di uno quindi è possibile assegnare anche a ogni calendario il proprio colore quindi basta semplicemente andare nelle impostazioni qui cliccando sul tasto che avete visto e poter scegliere in questo modo il colore della del calendario in modo se ne avete più di uno potete benissimo distinguere gli appuntamenti l'uno dall'altro ma questa applicazione la cosa bella che non è solo l'applicazione ma anche il widget allora il widget basta tenere premuto come al solito sullo schermo o un pinch in schiacciare su widget e trovare il widget di digital allora il widget di digital che ho impostato io e questo qui ce ne sono tanti altri alcuni sono solo per la versione pro sono pochi quelli la per la versione gratis gratuita però anche loro sono grazie graficamente bellini per esempio questo è quello che ho scelto io ma vi faccio vedere selezionando in un'altra pagina widget cercando di g cal di g caldo e sei vieni qui eccola qui ne prendiamo una casa la far mettiamo qui bravo ho preso giusto giusto quella più grande giustamente sono stato furbo prendiamone una di dimensioni più ridotte ok questa ed ecco quei tipi di widget che potete andare a visualizzare sulla vostra home screen vedete agenda giorno lista giorni griglia giorni vedete dove c'è questa banda qui sotto dove dice digital plus only e solo per il per chi ha acquistato la versione pro per esempio se scriviamo se clicchiamo su lista giorni a sua volta possiamo scegliere il tema della lista giorni light dark alfa light e così via dicendo la cosa un'altra cosa che è importante sapere che nella versione gratuita non è possibile scegliere quali calendari di visualizzare nel senso che se ne avete più di uno saranno visualizzati tutti quanti i calendari e quindi non potete scegliere se visualizzarne uno oppure no questa è una prerogativa della versione pro possiamo questo qui comunque queste sono le impostazioni del widget come potete vedere dove si può scegliere quindi il tipo di widget abbiamo già scelto il tema come vi stavo dicendo prima per esempio possiamo mettere il light stile di carattere che cosa fare quando si clicca i calendari da visualizzare se comprate quella però quanti giorni mostrare le dimensioni colore di sfondo dimensione del testo oggi della settimana insomma vi potete sbizzarrire come voi preferite per esempio io ho scelto questa qui come potete vedere questi sono i calendari delle festività italiane che naturalmente ho scelto con il rosso in modo da essere subito riconoscibile la festività e questo diciamo gli da un quadro di insieme quello che può essere widget qualora resta altri calendari personalizzando con i colori vedesse per ogni appuntamento per ogni calendario un colore con il suo appuntamento l'orario di inizio e di fine volendo anche il luogo perché si può registrare attraverso il gps per esempio facciamo così faccio vedere un luogo da dove dove avete questo appuntamento con un amico per un caffè non con un incontro di lavoro insomma e diciamo che ha tutte quelle funzionalità che servono quando dovete segnare un appuntamento che dovete ricordare io lo so come sto dicendo tutti i giorni non vi faccio vedere qui i miei appuntamenti giusto per una questione di privacy quindi questo è quello che per sommi capi è l'applicazione se volete provarla c'è la versione gratuita così potete capire anche voi se può fare al vostro caso oppure no allora detto questo ritorniamo su di me ok eccomi qua e l'unica cosa che vi posso dire è che anzi vi ribadisco perché già ve l'ho detto e che l'applicazione mi è piaciuta tanto lo uso tutti i giorni c'è una versione gratuita perché non provarla a vedere se fa a caso vostro se fa a caso vostro vi serve di più potete acquistare quella la pro di conseguenza io vi invito a provarla visto che ce n'è una gratuita e come sempre vi invito a lasciare un mi piace se vi è piaciuto il video di iscrivervi al canale se non lo avete ancora fatto di condividerlo sulle vostre baghe che a voi non costa niente per me è un grande aiuto e vi invito a rivedere a rincontrarci sul nostro sul mio canale ed il sabato prossimo per un nuovo video tra le 10 e le 13 salvo complicazioni io vi auguro come sempre un buon pomeriggio una buona giornata una buona serata una buona mattinata secondo di quando mi state guardando ciao a tutti e spero che mi seguiate ancora ciao 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 ciao